allora per la prova di scrittura con mon blanc 149 calligrafi vorrei fare un breve escursus diciamo sui dialetti io sono pugliese come la maggior parte dei dialetti del meridione d'italia è una lingua che ha risentito delle influenze straniere dei popoli dei popoli che hanno dominato il meridione d'italia i popoli sono stati tanti quindi le influenze sono sono tante in primis a partire dai tedeschi quindi la dinastia la fase cosiddetta normanno sveva quindi normanno gente discendente dai vichinghi e svevi tedeschi con federico secondo stupor mundi di cui noi al meridione andiamo particolarmente orgogliosi per quello che ha fatto nel sud d'italia quando si estingue per varie ragioni la dinastia normanno sveva in puglia quindi vichinghi e tedeschi che arrivano in puglia arrivano gli angiò la famiglia di carlo d'angio gli angioini gli angioini sono francesi quindi abbiamo ereditato termini francesi gli angioini non hanno regnato per sempre in nel sud italia hanno cominciato a partire dalla metà del 1200 però poi che succede nel 1282 i vespri siciliani per cui al sud italia chi arrivano arrivano gli spagnoli o meglio arrivano prima gli aragonesi ma gli aragonesi poi successivamente con il matrimonio tra ferdinando il cattolico che era il re di aragona e la regina isabella di castiglia quindi i castigliani si forma un regno unico di spagna quindi al sud italia regnano gli spagnoli a lungo per cui ci sono anche terminologie che hanno traggono la propria origine dalla lingua spagnola ma non solo spagnola perché gli aragonesi il regno di aragona comprendeva sia la ragione la regione cosiddetta di aragona che è la parte più interna del nord est della spagna ma comprendeva anche la catalogna quindi ci sono anche termini derivanti dal dialetto catalano per cui oggi il la prova di scrittura che continuerò alla pagina successiva sarà dedicata a parole del mio dialetto di derivazione iberica resto molto sul generico allora giusto alcuni esempi ve li proporrò nel mio dialetto il significato in italiano è la probabile origine iberica innanzitutto prima di andare avanti giusto vi avvicino il foglio per farvi vedere come non c'è nessun bleed through eh questo è più che altro un ghosting dell'inchiostro legato al fatto che la pagina è molto sottile se avessi usato un quaderno a 68 tomo e river 68 non si sarebbe visto nemmeno questo guardate quando anche quando nella prova di prima di flessibilità ho premuto molto sul pennino solo solo in alcuni casi c'è stato il passaggio d'incesto allora andiamo subito partiamo con alcune parole che deriverebbero dallo spagnolo spagnolo inteso come castigliano ecco allora awande 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 cioè prendere in italiano deriverebbe appunto dallo spagnolo aguantar un altro la sust c'è tina la sust cioè è un termine particolare lo traduciamo con angoscia ma nel nostro dialetto sust è un poco l'equivalente dello splin francese una tristezza che sa quasi di male di vivere sust deriverebbe dallo spagnolo susto susto andiamo avanti namarange aguantam namarange cioè arancia dallo spagnolo narancia ancora utavut questo dallo spagnolo poi sulla volta deriverebbe deriverebbe dall'arabo perché non scordiamo che gli arabi hanno regnato sia in spagna sia in sud italia la sicilia era un emirato arabo tavut che in italiano significa bara allora in spagnolo si dice ataúd ecco chiudiamo lo spagnolo con in la parola cucchiaire c'è un italiano cucchiaio che deriva da cucciara e questo è lo spagnolo vediamo qualche altro esempio invece in catalano allora la cash cioè la la ca- cas a tiri cassa coi rispetti in catalano si dice caissa non so poi bene come si pronuncia perché non conosco né lo spagnolo né il catalano un altro termine, un verbo, preciarse che significa rallegrarsi ma anche inorgoglirsi deriverebbe da prearse un altro esempio, la muina cioè adulazione ma anche si dice in italiano la moina, fare le moine dal verbo catalano amainar un ultimo arloge o war lodge a seconda delle località che identifica l'orologio catalano si dice reloce quindi arloge, reloce io chiedo scusa se avrò fatto qualche errore nella scrittura ho delle fonti, io faccio affidamento a delle fonti trovate sulla rete per finire c'è persino qualche parola che deriverebbe dal portoghese anche se portoghesi nel sud Italia non hanno mai regnato in maniera diretta comunque ho parlato di derivazioni iberiche un menin cioè il ragazzo deriverebbe da menino in realtà anche nello spagnolo esiste la stessa parola se avete presente las meninas il famoso quadro che è esposto al prado di Madrid significa la stessa cosa ragazzo, anzi ragazzo è menin ragazza è menen va bene è un'espressione che all'appet cioè a piedi deriverebbe da appè e un ultimo abbasce cioè giù abbasce giù da questo l'ho trovato sia nello spagnolo sia nel portoghese abbasce e abaco bene e con questo io concludo la recensione di oggi spero che vi siate divertiti ma anche in curiositi e io vi lascio buon buon tutto e a presto un saluto ciao